L'intervista doppia Chi è Iuri e chi è Daniele? Io sono Iuri E io sono Daniele Qual è un vizio di Daniele e qual è un vizio di Iuri? Ma lui fuma Fuma io quando devo fare gli spettacoli mi tocca sempre farmi la doccia dopo Ma io ma buzza Lui ti ha il vizio di cambiare le canzoni all'esterno quando sei a macchina Guarda via Per forti ti ascolti musica di mezza Siete single o accoppiati? Ma io sono fidanzato da sei anni Ma io sono sposato Che lavoro fai sul serio a parte stare sui social postare cazzate? Io aggiusto i computer Fui tecnico dei computer Ma io fado ogni cosa che trovo Favorevole o contrario alla cannabis? Ma io sono favorevole Ma stengo Ma stengo si Che sport pratichi? Ma io è buon paestra si dovrebbe vedere Lei è buon paestra? Sì Ma io con un bicicletto Vado a camminare sport di montagna Sei cattolico? Ma io per nulla no Io da piccino perchè mi portarono alla messa Ora non ci vuoi più Ora no Ancora si può far portare la mamma Il tuo film preferito? Io Shining Sicuramente Shining Tennispotting Ghostbusters Io la vita è bella di Venigni E anche c'era una volta in America Il tuo cantante preferito? Ma io ho il misprese E non si io ho due Io ce l'ho uno Popo Rondelli Un difetto dell'altro? Lui è ansioso E' ansioso Yuri mi mette l'ansia Mi mette l'ansia Allora lui è alto E mi posso sempre Che squadra tifi? Fiorentina Fiorentina per forza? Bah certo Il tuo attore preferito? Bah io a Betto Sol di Jack Nick Il mio corso Francesco Nuti Io Roberto Benigni Robin Williams E bah Non neanche un cantante Robin Williams Eh ma no Per calcare tu La tua ambizione? Io vorrei fare il giro del mondo con la smart Bravo Io vorrei un giorno diventare primo Papa Bellini Primo Papa No La finestra No Bellissimo Trump o Putin? Putin Ma è Putin anche io che hai mai più Pieraccioni o Zalone? Ma io Pieraccioni Io Zalone Se puoi mettere il ciclone non via Ma insomma che però Dolce o salato? Dolce Io salato Dolce dolce Prosciutto o salame? Salame Prosciutto Lampredotto o trippa? Io la trippa Ma il lampredotto vero Vino o birra? Birra Ma il vino che mangio la birra della cortezza? Prato o pistone? Difficile eh? Ma meglio Più Prato però anche pistone Andiamo lì in mezzo al casino Rap o Ro? Rocchi Rap La tua più grossa paura? I ragni I ragni e soffocare Ho l'asma Firenze o Roma? Firenze più forza E io invece io Roma Roma amica Ognuno c'ha su problemi No Ma è bene anche lui però Firenze Siate amici anche nella vita? Ma No Chi è? Con lui? Assolutamente Io glielo di lei a questa persona E tu fa bene Daniele? Come si chiama Daniele? Si Come si chiama Daniele? Eh Fuori dai palco non Lei non può sapere Io guardo Io guardo Mai visto Sono anche in due stappe dire Va Prossimi progetti Quest'estate ci sarà un grande progetto Il nuovo spettacolo che stiamo scrivendo Preparando In proprio questi giorni che si partirà diciamo quest'estate Ma le si ributtano le trovi Il nuovo show Il nuovo show Ma le ha fatto tutto questo per dire questa cosa Cioè Per farsi pubblicità Certo è uno spot finale per dire che il credo E se non è che ti guarda niente Guarda niente Guarda niente E' un ingegno 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 Ma fraccato Vi è piaciuto ragazzi Non facciamo queste cose Via Ma io guarda E' troppo concentrico Ah io concentrico Ma andri Ma andri Io la porto stasera a trovare Ma andri